Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che continua la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo, la seconda parte che viene onda tutti i giovedì dalle ore 19 in poi e che tratta degli argomenti vari dei libri salvo qualche eccezione che facciamo di tanto in tanto. La trasmissione, vediamo un attimo prima di cominciare, pronto? C'è ancora lì Mario? No, 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 ok, rideci. La trasmissione di oggi, continuiamo il nostro discorso sul Sentiero d'Oro e continueremo con le immagini della religione romana. Quali erano le immagini della religione romana che abbiamo parlato l'ultima volta che abbiamo trasmesso del Sentiero d'Oro? L'ultima immagine era Proserpina e per vari motivi non siamo riusciti a spiegare le immagini di Proserpina per cui riprenderemo da Proserpina il discorso che faremo oggi. Prima di tutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza e qui ci sono le zanzale tigri che ci stanno letteralmente mangiando. Queste zanzale naturalmente non riusciranno a costruire il loro corpo luminoso e a diventare eterno. se ne becco. Ricordo il numero di telefonino dell'Istituto che è 0338 39 10727. Ripeto, 0338 39 10727. Prima di parlare della trasmissione del Sentiero d'Oro volevo accennare quello che ho già parlato oggi il discorso di un ciclo di conferenze espositive dei libri che abbiamo scritto che si terrà presso la libreria Sottomondo di Treviso in via Tolpada 11. Ricordo che la libreria Sottomondo di Treviso sta organizzando anche delle mostre di quadri di pittori maledetti, pittori che non trovano da esporre in nessun'altra parte e niente, l'esposizione che sta facendo adesso è l'esposizione del pittore Tito espone finalmente a modo mio una personale dal 5 al 30 settembre, se a qualcuno può interessare. Sono tutti i pittori maledetti, tutti i personaggi che in qualche modo vengono bloccati, vengono impediti di esprimere, al di là di quello che esprimono, più per il modo con cui viene espresso che non per quanto viene espresso. C'è molto di peggio in giro in realtà. Niente, tratteremo un ciclo di conferenze in cui esporremo attraverso l'illustrazione dei concetti fondamentali esposti nei vari libri e esporremo il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. Cominceremo nel giorno di Halloween, che è il 31 ottobre 1998 alle ore 17 e spiegheremo gli effetti di premorta e sapete quasi tutti, penso, la storia di quelli che ritornano dal coma e che hanno degli effetti e come questi effetti incidono dopo sulla loro vita e spiegheremo questo modo di vedere le cose dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Insieme illustreremo anche ciò che porta a diventare tali nella religione romana, che va a identificare alcuni percorsi di stregoneria all'interno di vari paganesimi. Quello che noi illustriamo non sono cose da leggere in quanto tali, ma sono dei meccanismi che noi riveliamo affinché quei meccanismi possano essere usati, riprodotti o anche variati, per leggere i percorsi della costruzione degli individui all'interno dei vari paganesimi. Per cui sono dei meccanismi in realtà che andiamo a svelare. Dopodiché le immagini possono cambiare tranquillamente di nome, cioè il paganesimo babilonese, il paganesimo greco, il paganesimo romano, il paganesimo egiziano, quello celtico, qualunque paganesimo aveva intanto una percezione soggettiva, cioè un modo personale di percepire la vita, di percepire le cose, per cui davano un valore a effetti specifici della percezione. In più avevano dei percorsi sempre specifici dei popoli e nello stesso tempo, siccome gli esseri umani sono compresi nel mondo e non comprendono il mondo, dovevano scegliere su cosa concentrare la loro attenzione o cosa non concentrare la loro attenzione. Per cui i meccanismi sono importanti che vengano svelati, non tanto il nome delle immagini perché poi il nome varia a seconda di chi la usa e di chi si relaziona. Per cui la prima sarà fatta ad Halloween il 31 ottobre 1998 alle ore 17, dove parleremo di effetti della premorte e ciò che porta a diventare italiani nella religione romana. Dopodiché nel periodo dei Saturnali e del solo invito di Hopi parleremo del libro dell'Anticristo e Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè illustreremo questi due libri e i concetti generali che li portano. Invece nei Lupercali, nei festi di purificazione del febbraio, illustreremo il sentiero d'oro, cioè quello che stiamo leggendo oggi e la teoria della filosofia aperta. La teoria della filosofia aperta non viene venduta, però i concetti si possono illustrare lo stesso, specialmente in relazione con il sentiero d'oro. E poi, date da stabilirsi, è Il crogiore dello stregone, che comunque verrà continuato qui in radio, trasmissione dopo trasmissione, e l'ultimo libro che è in preparazione, a cui sto andando letteralmente fuori di testa, tant'è il lavoro che sto facendo, ed è Giulia Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Ora si tratta di prendere i concetti di Tommaso Didimo e di mettere in chiaro qual è il percorso di stregoneria che Tommaso Didimo illustrava e quali sono gli agganci che ha questo percorso di stregoneria, che è un percorso di vita, in contraposizione a quelli che sono invece la dicitura di possesso dei Vangeli ufficiali, cioè i Vangeli ufficiali che si impossessano degli individui. Bene, questo lo faremo presso la libreria Sottomondo a Treviso, in via Tolpada 11. Un po' alla volta metteremo a punto tutte queste cose. E vi ricordo, ogni primo martedì del mese, con Franco, ci ritroveremo a discutere di varie cose, la loro importanza, il loro sistema di discussione. Purtroppo questo martedì non l'ho potuto, ero stanchissimo, letteralmente molto stanco. La quantità di lavoro sia per mangiare, sia per vivere tutti i giorni, sia il lavoro di mettere in computer, sia il lavoro di elaborazione, sia tutte le cose corollarie, è stato talmente allucinante. Comincio un po' a sentirne un attimo la fatica. Infatti penso che, appena avrò finito questi due libri, sia con il giorno dello Stragone, sia Tommaso Didimo, penso che mi prenderò un lungo periodo di riposo facendo trasmissioni, riprendendo le conferenze, riprendendo i concetti espositivi, cioè riprendendo le trasmissioni dell'inizio. Detto questo, mi riaggancio un attimino alla trasmissione di oggi parlando della macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta. Per la macellaia dell'India, prima di prendere il sentiero d'oro, vi leggerò dal libro La posizione della missionaria di Christopher Hickens, qualcosa, e poi voi potete confrontarlo tranquillamente con tutta la propaganda che verrà fatta in questi giorni, tutta l'esaltazione dell'apparenza del gioco dei bussolotti che viene usato. Vediamo un attimino cosa dice, sono a pagina 65 di questo libro. Dunque, Mary Ludon, una volontaria di Calcutta, che in seguito ha scritto profusamente sulla vita delle suore e delle piedonne, offre la seguente testimonianza per quanto riguarda la casa dei moribondi. La mia prima impressione fu quella di tutte le fotografie filmate che avevo visto di Belsen e posti del genere, perché tutti i pazienti avevano la testa rasata. I campi di sterminio, vi ricordate com'era la testa? Non c'erano sedie, solo barelle. Sono dello stesso tipo di quelle usate durante la prima guerra mondiale. Non c'è un giardino, nemmeno un cortile, niente di niente. Allora mi chiesi, che cos'è questo posto? Solo due stanze, di cui una ospita tra i 50 e i 60 uomini e l'altra tra le 50 e le 60 donne. Stanno morendo. Non ricevono molte cure, praticamente non ricevono nemmeno antibiotici, oltre all'aspirina e in pochi casi fortunati del bruffen o cose del genere per il tipo di dolori che accompagnano il cancro terminale e le malattie di cui stavano morendo. Non avevano nemmeno sufficienti febbrocrisi. Gli aghi li usavano e li riusavano all'infinito e di tanto in tanto si vedeva una suora sciacquare gli aghi sotto il rubinetto dell'acqua fredda. Chiesi a una perché lo faceva? E mi rispose, beh, per pulirli. Allora le dissi, sì, ma perché non li sterilizzi? Perché non fai bollire l'acqua e sterilizzi gli aghi? E sterilizzi gli aghi? Mi rispose, non ce n'è motivo, non c'è tempo. Il mio primo giorno di lavoro, finito il turno del reparto donne, andai ad aspettare fuori dal reparto uomini, il mio ragazzo, che assisteva un ragazzino di 15 anni in fin di vita e una dottoressa americana mi disse che aveva cercato di curarlo. Aveva un problema renale relativamente semplice che era andato peggiorando sempre più perché non gli avevano somministrato antibiotici. Aveva bisogno di essere operato. Non ricordo quale fosse il problema, ma la dottoressa me lo disse. Era arrabbiatissima, ma anche molto rassegnata, come capita a molte persone in quella situazione. Disse, beh, non vogliono portarlo all'ospedale. E io, perché? Basterebbe chiamare un taxi e portarlo all'ospedale più vicino e chiedere che venga curato, farlo operare. Lei rispose, non lo fanno, non vogliono. Se lo fanno per uno, devono farlo per tutte. Allora pensai, questo ragazzino ha 15 anni. Tenete presente che le entrate complessive di madre Teresa bastano e avanzano per attrezzare svariati ambulatori di prim'ordine nel Bengala. La decisione di non farlo, di gestire invece un centro improvvisato e inefficiente, che richiederebbe denunce e proteste se fosse diretta da qualsiasi branca della professione medica, è deliberata. Lo scopo non è quello di dare un'onesta assistenza ai sofferenti, bensì di prolungare un culto basato sulla morte, la sofferenza e la sottomissione. Una volta madre Teresa, che personalmente va rilevato, si è fatta ricoverare in cliniche e ospedali fra i più eleganti e costosi dell'Occidente per i suoi problemi di cuore e di vecchiaia, ha scoperto il proprio gioco in un'intervista filmata. Dopo aver descritto una persona malata di cancro all'ultimo stadio, che aveva dolori insopportabili, con un sorriso madre Teresa rivelò l'obiettivo di aver detto a quel paziente terminale, stai soffrendo come Cristo sulla croce, perciò sicuramente Gesù ti sta baciando. Poi senza rendersi conto dell'ironia che si poteva attribuire alle sue parole, riferì la risposta del sofferente, allora per favore digli di smettere di baciarmi. Ci sono molte persone strette nella morsa del bisogno e del dolore, le quali nel momento estremo hanno avuto motivo di desiderare che madre Teresa fosse meno generosa con le sue carezze metafisiche personali e un pochino più attenta alla vera sofferenza. Bene, per noi questo individuo sarà sempre la macellaia dell'India o la nazista dell'Asia, come voi volete preferire. E questo libro, vi indiego il titolo, è La posizione della missionaria, teoria e pratica di madre Teresa, Christopher Higgins, edizione c'è in italiano e constatendo di farlo sparire. Detto questo, sempre con un incredibile assalto di zanzale tigri che mi stanno letteralmente circondando, anzi se avete un attimo di pazienza vado a taccare il ventilatore così vedo se stanno un po' lontane. Vediamo un attimo, un attimo solo arrivo immediatamente. Le correnti d'aria dovrebbero fermare il flusso delle zanzare, normalmente, speriamo che funzioni anche se io non sopporto la corrente d'aria in faccia. Allora, l'altra volta abbiamo lasciato il sentiero d'oro a Proserpina. Che cos'era Proserpina? Proserpina è la forza che assiste gli esseri umani al momento del passaggio dal corpo fisico al corpo luminoso. È il potere del passaggio, il potere della trasformazione. È un potere che esiste nell'esistente, che è cosciente nell'esistente, da cui possiamo attingere al momento del passaggio. Chiaramente per attingere al momento del passaggio dobbiamo avere forza per attingere, cioè dobbiamo avere moneta, cioè dobbiamo avere corpo luminoso abbastanza forte per attingere e poter fare il salto. E questo lo possiamo costruire nel corso della nostra esistenza. Per cui per essere Proserpina, per farsi Proserpina e riuscire a effettuare il passaggio, a qualunque livello il passaggio avvenga, è necessario che nel corso della propria vita ci prendiamo nelle nostre mani la responsabilità della nostra esistenza. Bisogna che ci imprendiamo nelle nostre mani la costruzione di noi stessi. Bisogna che viviamo la vita come un momento attraverso il quale costruirci. Solo in quel momento, solo in quel momento possiamo attingere a Proserpina, altrimenti non abbiamo la forza per attingere a Proserpina. Proserpina non si spreca neanche. Gli esseri umani che distruggono loro stessi in ginocchio non fanno altro che consumarsi giorno per giorno e non c'è alternativa a questo. Non c'è alternativa al consumarsi. Una volta che si è consumati si è distrutto il proprio corpo umano, si è distrutta la propria carica vitale che si aveva alla nascita quando da essere fetti siamo passati a essere umani. Bene, la vita in ginocchio porta alla distruzione di questa carica vitale e in quel momento non si è più in grado di farsi Proserpina, non si è più in grado di attingere. Si può solo aspettare che la morte ponga fine alle sofferenze. E tenete presente che la morte ponga fine alle sofferenze? Questa è la goduria che aveva la Teresa di Calcutta. Riuscire a vedere la gente che moriva nel modo più infame, nel modo più doloroso, nel modo più squallido, era quella da cui lei attingeva il suo modus vivendi. Perché questo? Perché il problema non è tanto la questione del cristianesimo, dei musulmani, dell'Islam, degli induisti adesso, dei buddisti, degli ebrei, eccetera, non è il problema delle singole religioni, il problema generale, il problema reale è quello della pulsione di morte. La pulsione di morte attanaglia l'individuo, lo sottomette, ne distrugge il suo divenire, ne distrugge la sua costruzione. Ebbene, il cristianesimo, l'Islam, l'induismo, non sono altro che dei tentativi per trasformare questa pulsione, questa forza che spinge l'individuo ad appropriarsi da altri individui, di mettere in ginocchio, di stuprarli, la trasforma in termini ideologici, in termini di idee, in termini di condizionamento educazionale, cioè li trasforma in termini pratici. Ebbene, il cristianesimo non è altro che un modo pratico per trasformare la pulsione di morte in elemento all'interno degli esseri umani. Per cui, anche se io continuerò a combattere il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, come elemento centrale, il vero nemico, che sta alla base di tutto, è la pulsione di morte. Ricordatevo sempre questo. Cioè, è quella forza che tende a bloccare i flussi di energia vitale, tende a mettere in ginocchio le persone, tende a distruggere le loro trasformazioni. E il primo divino che andiamo ad affrontare oggi è Robigo. Che cos'è Robigo? Qual è la forza che rappresenta Robigo all'interno della vita, all'interno del mondo che ci circonda? Farsi venere al fine di scongiurare l'attacco di quanto poteva danneggiare. Le malattie delle piante erano molto temute. Esse non sono pure semplici malattie, sono esseri il cui scopo è espandersi per obbedire alla più generale legge delle necessità. Era dunque necessario combatterli o esercitare nei loro confronti atti tali da indurli a non essere eccessivamente avidi nell'esercitare il loro diritto all'espansione. Il popolo romano si faceva venere invogliando la ruggine a non essere troppo aggressiva. Così si onoravano gli esseri di cui la ruggine era portatrice attraverso dei riti, il cui scopo era quello di convogliare l'attenzione degli astanti onde fonderla con quelli della ruggine. Attraverso questa fusione la ruggine non progrediva più di tanto. Gli esseri che dalla ruggine prendevano forza e vita si sviluppavano, consentendo agli esseri umani di non venire eccessivamente danneggiati. Farsi venere è una cosa sconosciuta ai cristiani. Essi mettono il nemico a ferro e fuoco, piuttosto che mediare qualora ne abbiano la possibilità. Questi riti, che apparivano come una serie di processioni e di canti, le robigaglie, le robigaglie erano delle processioni, praticamente dei canti, erano celebrati il 25 aprile nel Bosco Sacro al sud di Roma. Erano talmente potenti che i cristiani vollero usarli a gloria del loro Dio. I cristiani modificarono il percorso componendo delle litanie. Questi percorsi, dette processioni, durarono fino a non molto tempo fa. Inizialmente i percorsi delle robigaglie vennero modificati introducendo la tappa di San Pietro. Poi, esportati in tutte le città, le litanie composte per l'occasione vengono recitate soltanto in chiesa. Solo nel caso di gravi calamità naturali o di malattie epidemiche si facevano delle processioni recitando in coro le litanie. I cristiani, di loro, hanno solo la miseria morale che sbandierano, seminano e impongono attraverso l'uso della croce, ma i loro preti non sanno vedere nulla se non il potere concesso loro dall'umiliazione degli esseri umani incapaci di difendersi. Le robigaglie hanno un carattere magico che i preti cristiani non riusciranno mai a volgere a loro favore. Essi usano le processioni per chiedere al loro Dio di abbattere la sua spada di fuoco sulla calamità che li opprimono, dimenticando come loro siano in realtà il motore della calamità stessa. La religione romana, al contrario, rivolge la sua attenzione alla calamità onde limitarne lo sviluppo e gli effetti. Quanta differenza fra i due fare. Vi ricordo una cosa, non sempre si hanno gli strumenti per combattere lo sconosciuto che si ha davanti. La peste, nei tempi antichi, anche se esistevano dei scienziati che sapevano che era portata da bacilli invisibili, cioè ci sono dei personaggi che hanno compreso questo, era comunque possibile limitarne i danni qualora delle misure igieniche fossero state prese. La Teresa di Calcutta che usa gli aghi infetti da persona a persona, fa altro che trasmette le malattie da persona a persona. Basta abolire gli aghi perché alcune malattie non si trasmettono da persona a persona. Per cui esiste un disprezzo nel fare, da parte dei cristiani, nelle cose che li porta a non affrontare la vita, a non usare la vita come costruzione. E la malattia stessa viene vissuta come un mandato da Dio, cioè è Dio che manda la malattia per cui è inutile fare di fronte alla malattia. Facendo questo non fanno altro che distruggere le trasformazioni umane. Mentre invece la rubigaglia è il prendere atto di questo, cioè è il prendere atto che esistono degli esseri, esistono delle cose che si sviluppano e si trasformano nel mondo che ci circondano. Cioè esistono delle divinità, esistono delle coscienze, esistono delle consapevolezze esattamente come noi che cercano di espandersi. Bene, a quelle consapevolezze, a quelle coscienze si dice fermati un attimo, non esagerare, se saccheggi eccessivamente il mondo rischi di danneggiarmi irreparabilmente. Bene, riuscire a fare questo è un atto di assoluta magia e questo i cristiani non lo potranno mai, mai fare, perché la sottomissione davanti al loro Dio uccide la magia che cresce dentro e la magia non è altro che la capacità dell'essere umano di relazionarsi col mondo. Quando si uccise la magia si può solo impossessarsi del mondo, per cui per riuscire a capire che affinché non si sviluppi la febbre da parto è necessario lavarsi le mani, bene, per riuscire a capire questo bisogna avere rispetto per il mondo, bisogna avere rispetto per ciò che si fa. Se non si ha rispetto per ciò che si fa si usano le mani sporche per qualsiasi cosa. Ebbene, i cristiani hanno sempre usato le mani sporche perché non avevano rispetto delle cose. Ricordiamoci queste sottiliezze che sono importantissime nella costruzione delle relazioni fra noi e il mondo che ci circonda. Aerobigo è la forza della relazione, una forza della relazione specifica che mette in luce come la ruggine, come tutte le malattie delle piante possono danneggiare l'essere umano, però noi dobbiamo considerare anche quelle parte della vita, cioè dobbiamo considerare anche quell'assalto come un assalto divino, come un assalto magico. Questo non vuol dire che non mettiamo i veleni, che non facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però dobbiamo farlo con assoluto rispetto, cioè dobbiamo farlo considerando che quelli sono esseri che tendono di espandersi, esattamente come i zanzari e tigri che mi stanno venendo addosso sono esseri che vogliono espandersi, però quando vengono addosso a me cessano di espandersi. E passiamo a altre due immagini della religione romana. E passiamo a Salacia e Veniglia. Ciò che è Nettuno, salato, ciò che fa Nettuno relazionarsi con la terra ferma. I nomi stanno ad indicare due momenti dell'essere Nettuno. L'essere Nettuno è il mare in sé. Salacia e Veniglia sono due modi di essere e un fare dell'essere mare. Vengono estrapolati dalla visione di insieme dell'essere Nettuno e acquistano la loro autonomia di essere in relazione al fare e alle relazioni che gli esseri umani hanno con l'essere Nettuno. Alcuni esseri dell'esistente sono tanto enormi, tanto complessi che non è possibile per l'essere umano relazionarsi con l'insieme dell'essere, ma si relaziona con una parte dell'essere con un fare dell'essere stesso. L'essere Nettuno si relaziona con la terra ferma, non si relaziona con l'essere terra, in quanto egli è parte dell'essere terra. L'essere Nettuno si relaziona con l'essere natura, in quanto questo è un essere diverso dall'essere terra, ma egli è anche oggettività dell'essere natura, in quanto questo si muove anche in Nettuno. Per i veggenti umani, Salacia è un attributo molto importante, era la vita per gli esseri umani. L'essere Nettuno attraverso Salacia si relaziona con gli esseri umani e soddisfa i loro bisogni. L'essere Nettuno attraverso Venilia si relaziona con la terra ferma, questa confluisce in quello e quello in questa. Sono due aspetti di Nettuno sui quali gli esseri umani concentrarono la loro attenzione. Attraverso Salacia e Venilia gli esseri umani concentrarono la loro attenzione sull'essere Nettuno e concentrando la tensione scambiarono con questi energia vitale, incrociando le rispettive linee di tensione. Questi due esseri non sono stati usati da Nettuno per migliaia di anni per incrociare le linee di tensione con esseri della terra ferma. Soltanto quando l'essere umano ha cominciato a solcare i bari, iniziava a relazionarsi con altri aspetti dell'essere Nettuno. Queste due figure possono essere usate sia dagli esseri umani in generale per rapportarsi col mare, sia dagli stregoni per concentrare e manipolare le linee di tensione attraverso le quali convogliare o dissipare flussi di energia vitale. Queste figure e il loro significato venne dimenticato e nascosto dietro il poderoso avanzare della mitologia greca. Ma erano sempre là, erano pronte ad avvolgere ogni essere che metteva i propri piedi nel bagnasciuga e ogni massaia che vi atingeva acqua salata o ancora ogni bambino che giocava in riva al mare. Chi non ha provato ad assaggiare quanto è salata l'acqua del mare? In quel momento la forza di salacia è entrata nell'essere umano. La consapevolezza del mare salato ha condotto l'essere umano a diventare tutt'uno con salacia. Gli apprendisti stregoni conoscono molto bene il significato di ciò. Spesso noi abbiamo delle coscienze grandiose con cui ci relazioniamo. L'essere terra è un essere grandioso. Se io dico io mi relaziono con l'essere terra è un'affermazione che non ha senso perché io non sono in grado di relazionarmi con l'essere terra. Io sono in grado di relazionarmi alcune trasformazioni che vive l'essere terra, non con l'essere terra nel suo insieme. L'essere terra ha vari aspetti con cui si presenta agli esseri della natura, a seconda delle loro specificità. Ebbene, noi normalmente ci relazioniamo con questi aspetti che estrapoliamo dall'insieme perché sono consapevoli di se stessi. È come dire, io non corro con la testa, io corro con i piedi, ci metto anche la testa, ma essenzialmente corro con i piedi. Per cui, come corro io? Io corro con i piedi. Chiaramente ci metto tutto me stesso, l'atto di correre lo faccio con tutto me stesso. Però sono i miei piedi che hanno la funzione fondamentale di correre. E così è quando mi relaziono col mare. Io non sono in grado di abbracciare tutto il mare, è troppo grande la coscienza del mare. Però mi relaziono con aspetti di esso. Mi relaziono con il suo essere salato. L'essere salato del mare è un essere divino del mare stesso. Ogni cosa, ogni parte di una coscienza può diventare coscienza di se stessa qualora operi a ingrandire la coscienza di cui è parte. Per cui i miei piedi in realtà hanno una loro coscienza, le cellule del mio piede hanno una loro coscienza, una loro consapevolezza. Però si sono specializzate sono specializzate a diventare parte di una coscienza più grande che io dico me. Però questo non significa che loro non abbiano una coscienza e una consapevolezza. Quando mio nonno uscì dal mare la prima volta, probabilmente era formato da una sola cellula. O comunque inizialmente dal primo brodo primordiale era formato da una sola cellula. Pertanto io non posso pensare dal punto di vista logico, dal punto di vista scientifico, che la cellula del mio piede non comprenda me stesso. È un momento che oltretutto dovrebbe comprendere l'intera struttura del DNA, per cui dovrebbe avere tutto il progetto di me stesso dentro. E così è per le coscienze che ci circondano. Io non mi relaziono col bosco, ma con alcuni attributi del bosco. Io non mi relaziono con il pianeta, ma con alcuni attributi del pianeta. Però posso dire che mi relaziono col pianeta e posso dire di relazionarmi col bosco. Le cose non sono complicate, sono molto semplici in realtà. È solo una questione di struttura mentale, non è altro. Finché si pensa a un Dio padrone non si può pensare a cose diverse. E passiamo a un'altra divinità, ed è salute. Salute è uno stato dell'essere. È lo stato attraverso il quale l'essere prosegue senza sofferenze il proprio cammino per lo sviluppo della propria coscienza di sé lungo il cammino del sé. È lo stato attraverso il quale l'essere umano segue il proprio cammino per diventare eterno, diventando uno con l'universo senza subire menomazioni nell'effettuazione delle proprie scelte. Salute non è assenza di malattia. Salute è possibilità di superare la malattia o la menomazione contingente. È uno stato dell'essere che non nemini il proprio divenire. Così per ogni essere dell'esistente era importante salute. E lo è tuttora. Salute stava ad indicare la necessità per il sistema sociale che i suoi membri fossero in salute. Perché? Solo in questo modo egli era in salute. Solo chi è in salute può operare per ovviare alle necessità del momento. La malattia era, ed è, menomazione del fare. Un pericolo non solo per il malato, ma per l'intero sistema sociale. Ogni essere doveva curare la propria salute e non esporsi a nessuna malattia appena l'indebolimento del sistema sociale. Siamo all'inverso della macellaia dell'India. A questa impostazione si opporrà il cristianesimo, per il quale la malattia è lo stato normale dell'essere umano, in quanto è il mezzo attraverso il quale Dio mette l'essere umano alla prova. Salute è un'eccezione voluta da Dio all'imperio della malattia. Questo credo sia di Tommaso d'Aquino, se non mi sbaglio. Il cristianesimo abbisognerà della malattia e delle sofferenze per imporre la grandezza del proprio Dio alla religione romana. Il proprio Dio alla religione romana necessitava di salute per affermare il proprio diritto all'esistenza davanti al mondo. I cristiani, fermando i flussi di energia vitale dentro il corpo degli esseri umani, li portavano naturalmente alla malattia. Inoltre i cristiani usavano la malattia per poter distribuire la loro pietà e la divina carità. Necessitavano del male per dimostrare l'esistenza di Dio attraverso l'alleviamento delle sofferenze da loro stessi inflitte. È necessario ricordare salute e relazionarsi con essa. Come ci si relaziona con salute? Curando il proprio esistere, mettendo attenzione e non danneggiarsi inutilmente, assaporando ogni momento e in quel momento costringe il proprio essere a dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Salute è un monito al fare degli esseri umani. La malattia è costante nel fare dei cristiani. Malattia da non confondere con febbre o con mefite. Questi sono esseri in sé che esistendo nell'oggettività si relazionano con l'essere umano. Malattia è uno stato dell'essere umano attraverso il quale questo si racchiude su se stesso rinunciando all'assalto del cielo della conoscenza e della consapevolezza. Se questo modo di essere si prolunga nel tempo, c'è da parte dell'essere umano, la rinuncia allo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza, la rinuncia alla vita. Ed è quello che stava facendo la macellaia dell'India. La macellaia dell'India doveva distruggere la salute delle persone, doveva coltivare la morte, doveva coltivare la sofferenza, doveva coltivare la malattia. Questo era il suo progetto. Salute è uno stato dell'essere che è uno stato dell'essere divino. Il Dio che cresce dentro dell'essere può crescere dentro nell'essere soltanto se l'essere è in salute. Se l'essere è in malattia tende ad attrappirsi su se stesso. Questo non significa che l'essere malato non possa comunque partorire il proprio corpo luminoso, che l'essere che sta soffrendo possa comunque partorire il suo corpo luminoso. Però diciamo in grave difficoltà davanti alla vita. Dal momento che il corpo luminoso si costruisce attraverso le contraddizioni dell'esistenza, cioè facendo della vita una sfida, cioè la vita come sfida, bene, se non si è in grado di affrontare la vita come sfida, bene, in quel momento ci sono delle grandi complicazioni per la costruzione del proprio corpo luminoso. E lo stato di salute è uno stato divino dei singoli esseri, per cui è una divinità in se stessa. Sanco. Sanco è la visione sabina dell'esistenza. L'esistenza è tale in quanto io faccio ciò che dico e ciò che dico è quanto faccio o è stato fatto. Io sono uno con le parole e col fare. Io guardo la realtà per ciò che i miei occhi percepiscono e quella realtà vi trasmetto senza inganno perché quella è la realtà che mi compenetra e dalla quale ricevo forza e vigore. Semo Sanco è dunque un modo di essere dell'essere umano, un modo di relazionarsi col mondo circostante. I fratelli Arvale portavano le sue insegne, una ruota simbolica a ripetizione di quel modo di essere. Ripetere cento volte ciò che siete in quanto siete. L'inganno trae ragione di essere dall'inganno ricevuto dall'essere umano. Chi chiama le cose col loro vero nome non crea inganno, anche se quel nome sembra estraneo, ha le orecchie di chi ascolta. Chi cerca per chiedere cose troverà sempre la veridicità, anche con meccanismi oscuri e parole straniere. Questo era il messaggio che i fratelli Arvale volevano trasmettere portando le insegne di Semo Sanco. Ciò che Sanco sancisce nessuno può negare. Farsi Sanco significa trarre la ragione delle cose dai propri occhi, dal proprio essere, non da altri occhi o dal giudizio di un altro essere. Farsi Sanco è l'unico modo per onorare Sanco. Sanco non esiste in sé, esiste nel comportamento degli esseri umani, nel loro quotidiano, nella relazione fra le parole e la realtà del loro fare. I cristiani ebbero un odio feroce nei confronti di Sanco. Il loro Dio era buono nelle affermazioni del pazzo di Nazareth, ma feroce nel suo fare e nella relazione fra sé e il circostante. Come si poteva conciliare tale dicotomia con la necessità della Chiesa cristiana di mettere gli esseri umani in ginocchio, sottomessi al suo volere? Sanco è l'essere uguale a se stessi. Cioè la parola è importante perché la parola l'ho data io. Cioè la parola esprime me stesso. Bene, se io vengo meno alla parola data e vengo meno perché ho ingannato, non perché esistono delle condizioni particolari o si sono verificate altre cose o altre questioni o altre cose sono subentrate, ma se io vengo meno alla parola data perché stavo pensando a costruire l'inganno, bene, a Roma tradire il giuramento era condanna a morte, cioè c'era la condanna a morte con tutte le variabili possibili e immaginabili. E la condanna a morte non era data dal fatto che si aveva tradito la parola data, ma la condanna a morte era data per il fatto che si era tradita la fiducia di chi ci aveva dato, cioè si aveva derubato la società di un qualcosa che noi si era garantito. Cioè io ho garantito al sistema sociale, ho garantito che io avrei fatto quella cosa, che io avrei affrontato quel problema, ebbene quel problema io non solo magari non l'ho affrontato, ma avevo un altro scopo in testa, avevo un'altra cosa da fare. Bene, in quel momento io non ho semplicemente, non sono venuto a meno soltanto alla mia parola, ma ho rubato, ho derubato la società in cui vivevo di un'aspettativa, di un progetto su cui lei poteva contare. Ebbene questa era la condanna a morte per il giuramento, il venire almeno a un giuramento. Ed è il Dio che cresce dentro, cioè è la parola del Dio, semo sanco, cioè se io faccio un giuramento io mi faccio semo sanco, ed è la parola di un Dio, cioè io sono un Dio che si costruisce in mezzo a dei che si costruiscono, per cui la mia è la parola di un Dio. Se io non sono in grado di mantenere la parola di un Dio, io non sono più un Dio, cioè io sono una persona in ginocchio, un truffatore, un delinquentucolo, e in quel momento io ho tradito quello che sono tutte le aspettative del mondo che ci seconda, cioè ho ingannato, ho imbrogliato, ho rubato, ho truffato, per cui è gravissimo venire almeno alla parola data, è di una gravità estrema. Chiaramente sto parlando di giuramenti istituzionali, di giuramenti nei confronti del sistema sociale, dello sviluppo della società, non sto parlando del piccolo giuramento che fa ogni persona, ne facciamo di promesse centinaia, dopo subentrano cose per cui non possiamo più mantenerle, ma questo fa parte della vita, questo fa parte contraddizione dell'esistenza. Sto parlando dei grandi giuramenti, quelli che dicono io servo lo Stato e dopo vado a rubare 10 miliardi, tanto per dire uno, oppure mi servo della carica pubblica per dopo rubare o portare del mio, quello è il giuramento che va punito con la pena di morte, quello è il tradimento della società. E passiamo a un'altra divinità, una divinità enorme, una delle più grandi divinità esistenti, forse la divinità per eccellenza, l'entità in questa parte dello spazio, il divino del divini, ed è sole. Nonostante si conoscesse la coscienza di sé dell'essere sole fin dai tempi dei Sabini, in quanto il culto sembra sia stato introdotto a Roma da Tito Tazio, tale essere non acquista mai un'importanza, non solo il gemone, nella religione romana, ma praticamente quasi inosservata. La famiglia delle Aureli si diceva discendesse dall'essere sole e ne manteneva vivo il culto esercitando su di esso la propria attenzione. Il culto del sole non si affermò mai nella Roma Antica. L'aspetto predominante della religione romana e di quella etrusca prima era quello di relazionarsi con l'esistente circostante. Tante erano le coscienze di sé nel circostante e tanto lontana era la coscienza di sé dell'essere sole che non si riteneva valesse la pena soffermarsi. In realtà i culti relativi all'essere sole, anche nel vicino Oriente, erano culti di persone colte e nobili, in altre parole nullefacenti, persone che potevano tranquillamente impiegare il proprio tempo nell'esercizio della propria attenzione, facendola spaziare oltre i confini del quotidiano nei quali i poveracci, che si sudavano il pane, erano costretti. La percezione della coscienza di sé sole implica un notevole sforzo nella manipolazione dell'attenzione e non sempre i risultati ripagano lo sforzo. La coscienza di sé dell'essere sole è molto selettiva nei confronti dei veggenti. Soltanto durante il periodo imperiale Sol diventa una divinità importante. A Roma il culto vero e proprio viene importato da Elio Gabbalo, costui prima di diventare imperatore, era stato un sacerdote da qualche parte dell'Asia, in qualche tempio dedicato ai misteri del dio sole. In realtà era a conoscenza di alcune tecniche con le quali manipolare l'attenzione in relazione alla coscienza di sé sole. L'introduzione di questa divinità come momento centrale della religiosità romana durante l'impero è uno dei presupposti della caduta della religione romana e precede l'avvento del cristianesimo. Non tanto per l'essere sole in sé, ma per l'uso che di tale immagine veniva fatto. La ninfa è una divinità vicina con la quale ci si può rapportare tutti i giorni attingendo acqua alla fonte. Ma l'essere sole è lontano, le pratiche per alterare la percezione richiedono parecchio tempo, concentrare la vista su di lui, danneggia gli occhi, eccetera. Il comando sociale vide quanto li necessitava. Un essere sufficientemente lontano, simboleggiante l'unicità della figura dell'imperatore, a cui gli esseri umani del sistema sociale difficilmente potevano rivolgere l'attenzione. L'imperatore, simboleggiante il sole, non sentì mai la pernacchia che da questi si levò nei suoi confronti. Aureliano potenziava il culto introducendo la festa di Sol Invictus il 25 dicembre che i cristiani appena poterono trasformarono in Natale del loro profeta. Così il loro profeta era nei cieli come il sole. L'essere sole è l'entità centrale in questo settore di spazio, è l'entità nella quale sedimenteranno le coscienze di sé, informazione e sistema sociale capaci di proiettare le proprie trasformazioni nell'infinito. Questo è quanto videro i vegenti asiatici e gli egiziani in particolare, le anime dei loro morti dirigersi verso il sole. Questa visione è possibile soltanto quando all'interno del sistema sociale in cui vivevano questi esseri umani c'era un grado di libertà ben maggiore di quanto non appare nei libri di storia oggi in circolazione. Eppure è così. L'introduzione a Roma di questo culto e in questo modo ad opera di un imperatore distrusse la religione romana. Come ci si relaziona con l'essere sole, concentrando la propria attenzione su di esso, concentrando il proprio sognare su di esso, manipolando la propria attenzione, liberandola dei bisogni contingenti. In pratica ascoltare con calma i fluire dei mutamenti dell'essere sole, possibilmente senza danneggiarsi la vista. E con l'essere sole si può scambiare energia vitale. Scambiare energia vitale con l'essere sole significa diventare abbastanza veloci per afferrare cose strane che si presentano, occasioni che si presentano. Ed è tutto qua la relazione. La relazione porta solo a questo, scusate se è poco. Anch'io ero convinto che fosse poco, in realtà non è assolutamente vero. Noi siamo trapassati da centinaia e centinaia di occasioni in ogni istante della nostra giornata, in ogni momento della nostra esistenza. Bene, di queste occasioni siamo in grado di mettere a fuoco la nostra attenzione su un numero limitatissimo, su pochissime di queste. La relazione con l'essere sole ci permette di ampliare la quantità di occasioni che siamo in grado di afferrare. È tutto qua, però è una delle cose più incredibili che possa succedere a una persona. E questo avviene sempre quando ci si relaziona con il circostante, ma con l'essere sole è una cosa tutta particolare. Andiamo avanti con un'altra divinità. Andiamo avanti con Sorano. Sorano è un culto dei popoli erpini. In origine impersonava la forza dell'essere lupo che si riversava negli esseri umani. Una relazione simbiotica fra gli esseri lupi e gli esseri umani, attuata per trarre il reciproco vantaggio dalla reciprocatività. Oggi che l'essere lupo sta aumentando le proprie zone e sta crescendo sia di numero sia di qualità, i pagani possono finalmente diffondere il proprio pensiero. Le due cose sono molto legate. Quando gli erpini furono conquistati dai romani il culto sopravvisse, ma come molti altri culti il significato andava spegnendosi e veniva spesso confuso con significati simili già in uso a Roma. Molti sono i simboli relativi al lupo nella religione romana. La stessa lupa preda di guerra romana nei confronti degli etruschi, i lupi legati ai culti di Marte, il lupo percaglia, l'ultimo dei riti aboliti dai cristiani dopo che essi ne avevano svuotato il significato. Dimostrano l'importanza nella religione romana e dei loro vicini italici della relazione fra l'essere umano e gli esseri lupi. I cristiani metteranno più tardi fine a questa relazione sterminando gli esseri lupi. I cristiani non rispettarono l'essere San Francesco, quello che loro chiamano San Francesco. Essi volevano infatti sterminare questa specie così vicina ed unita alla specie umana da consentire a quest'ultima di preservare la memoria nonostante l'oscurantismo cristiano. Sorano merita di essere ricordato per questa relazione, relazione tutt'altro che morta, anche se la specie lupo oggi è quasi estinta nell'Italia centrale. Ma nulla è perduto, visto che ci sono ancora stregoni che su di esse concentrano la loro attenzione e ambientalisti che si operano per salvare il salvabile. Quando noi tronchiamo le relazioni col mondo che ci circonda, perdiamo una parte di noi stessi e questo è una cosa ineluttabile. Ogni volta che noi altri non siamo più in grado di mettere l'attenzione, di riconoscere noi stessi sopra il divino che ci sta circondando, perdiamo una parte del nostro divino. In tutte le immagini della religione romana voi troverete sempre questo aspetto. Il Dio che cresce dentro all'essere umano si relaziona col Dio che sta fuori dall'essere umano, cioè gli infiniti dei che ci circondano. Però non è che il tutto si relaziona col tutto anche se costruisce la relazione, ma esistono degli aspetti specifici che appartengono al fare dell'essere umano e al fare del circostante. Cioè io quando costruisco la mia relazione con l'albero, non è che costruisco la relazione con l'intera coscienza dell'albero, anche se costruisco la relazione però, trasmetto e ricevo a seconda delle azioni che faccio, cioè in base alle azioni, in base a degli aspetti specifici. In questo caso con l'essere natura c'è la relazione con l'essere lupo. Chiaramente non è tutto l'essere lupo, ma è la relazione che l'essere lupo caccia e io che mi metto in relazione con l'intera natura. Per cui esiste il Dio che cresce dentro, cioè il Sorano che cresce dentro l'essere umano e il Sorano che cresce nella natura. Il Sorano che cresce nella natura è espresso dall'essere lupo, in realtà è espresso da tutti gli esseri animali della natura, però in questo caso, in questa specifica relazione è espresso dall'essere lupo. Per cui abbiamo sempre il Dio che cresce dentro la singola coscienza e i vari dei, cioè gli infiniti dei del circostante che però possono essere anche raggruppati, cioè possono avere anche una coscienza di più, tipo l'essere terra, che è sia essere terra, sia coscienza complessiva che singoli aspetti dell'essere terra con cui io entro in relazione. Però per entrare in relazione con questo divino devo costruire il divino dentro di me. Soltanto se io costruisco il Dio dentro di me posso entrare in relazione con il divino. Se io sono in ginocchio e non entro in relazione con niente, sto solo aspettando la morte, sto solo aspettando di mettere fine a tutto. Questo è il concetto che voi dovete continuare a tenere presente nel paganesimo. Fuori da questo concetto non esiste paganesimo. Vediamo l'ultima immagine di oggi che è le strigi. Le strigi sono un'immagine nera. Le strigi sono esseri la cui credenza si costruisce, si identifica nelle situazioni oggettive in cui gli esseri umani sono costretti ad affrontare il loro quotidiano. Il quotidiano degli esseri umani costretti a guadagnare il pane e il pane per il comando sociale col sudore della propria fronte è molto faticoso e spesso i bambini e le madri non sopportano il parto. Spesso anche i bambini nati non riescono a diventare fanciulli. Questo perché le condizioni di vita sono tanto atroci da non consentire lo sviluppo dell'essere umano. Alcuni esseri umani riescono a sopravvivere, nessuno riesce a darsi spiegazioni, se non che dei mali oscuri sono venuti ad annientare quei bambini che non sono riusciti a crescere. Quei mali oscuri visti dai veggenti come fumo nero dopo un'esplosione di luce, lo spegnosi di una luce che abbagliava, sono chiamati strigi. Il fatto di considerarli femminili deriva dal sospetto che soltanto un altro essere femminile poteva rubare o distruggere quanto un essere femminile aveva prodotto e cresciuto. Il fatto è che queste ombre nere presero forma sia nella descrizione degli esseri umani che guadagnavano il pane per il comando sociale col sudore della loro fronte sia dal comando sociale stesso che le indicava quali cause di danni o di malanni provocati in realtà dal suo fare e dalle sue adesioni. Le strigi sono dunque un prodotto dell'oggettività in cui gli esseri umani sono costretti a vivere e a riprodursi e sono molto numerose fra gli strati più miserevoli e sofferenti della popolazione. Il numero delle strigi è molto aumentato con l'avvento dei cristiani, sembra che queste li seguono ovunque vadano per seminare l'assoggettamento al volere del loro Dio. Non si possono combattere le strigi senza combattere la causa oggettiva che le produce. Non si possono distruggere se chi le genera e le alimenta rimane intoccato. Le strigi sono anche l'impossibilità dell'essere umano fanciulla a trasformarsi in essere umano adulto. Impedire quelle trasformazioni in modo compiuto è un atto da strigi. Se morse è la morte del corpo fisico, strigi è la morte del corpo luminoso in gestazione all'atto del passaggio fra l'essere umano fanciullo e l'essere umano adulto. Un adulto che sarà sempre incompleto per gli attacchi subiti dalle strigi e dai loro agenti, violentatori, manipolatori di coscienza, esseri che si sono compiaciuti al punto tale da sottomettere un essere umano fanciullo, che questi non è più in grado di alimentare il proprio corpo luminoso. E questa è la strigi. La strigi è tutto ciò che blocca lo sviluppo di una persona e gli impedisce il passaggio. Strigi è il lato nero, il feto che non riesce a diventare un fanciullo. Strigi è il fanciullo che non riesce a diventare un uomo adulto, sarà sempre un adulto meno mato. Strigi è tutto ciò che impedisce all'essere adulto di costruire il proprio corpo luminoso. Il terrore, la paura, l'annichilimento. Bene, queste sono tutte ombre nere che appaiono nei leggenti sempre come fumi. Sempre come fumi oscuri, blu scuro essenzialmente, blu scuro, blu nero. Bene, questo blu scuro e blu nero che si eleva attorno a certi individui, sono portatori proprio della distruzione, della formazione dei corpi luminosi, delle persone che stanno attorno, specialmente dei loro figli, specialmente dei loro parenti, specialmente di chi ci lavora assieme. E questi, nel paganesimo romano, sono definiti come Strigi. Vediamo un attimino. Pronto? Pronto? Sì? Sono in diretta, no? Sì. Sì. Scusa, io prima avevo sentito, ancora una mezz'oretta fa, scusa se magari mi intrometto, non è il momento giusto, avevo sentito di una persona che parlava di un libro di madre Teresa. Io, io ero io. Ah, sei tu? Sì. Sì, scusami. Puoi ripetermi le edizioni? Sì. Sì, è il titolo. Allora, è Christopher, P-H-R. Sì. C-H-R-I-S-O-F-R. Sì. Itkins. Puoi farmi lo spelling? H-I-T-C-H-E-N-S. Sì. Il titolo è La posizione della missionaria. Sì. Teorie pratiche di madre Teresa. Sì. Edizioni minimum fax. Va bene. Il costo è di 15 mila lire, se riesci a trovarlo, perché sembra che qualcuno lo stia facendo sparire. Noi abbiamo sia le edizioni italiane che quella inglese. Ascolta, ma tu l'hai trovata su una... In libreria normalissima. In libreria normalissima. Certo. Io l'ho trovata a Treviso. Già in esposizione o l'hai ordinata? No, no, no. È riuscito a... Inviato il Pada, no? E io sono qua a Treviso. Ecco, a Treviso, in viato il Pada, vicino a Chiesa Santa Maria Maggiore. Sì. Sì, in piazza... Il numero 11 c'è la libreria Sottomondo, che ne ha alcune copie, insomma. Ho capito. Lo puoi trovare, insomma. Costa 15 mila lire, in ogni caso, un libretto. Sì, sì. Puoi trovare anche l'edizione inglese con anche le fotografie, se vuoi. Ho capito. Ti ringrazio. Grazie a te. Scusa. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E siamo qui. Queste, dunque, sono alcune immagini della religione romana. A noi ci restano ancora da fare due immagini della religione romana. Ed è esattamente Summano e Tellus. Dopodiché, passiamo ai libri Sibillini, chi parla della religione romana, il concetto di provvidenza nella religione romana e le congregazioni della religione romana. Gli auguri, i Sibillini, appunto, i Feziali, i Fratelli Arvale, i Pontefices. Vi ricordo che ogni pagano, in questo momento, qualunque sia la sua direzione che prende, ha il diritto al titolo di Pontefice. Pronto? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Volevo dirvi che ho sentito l'elenco degli orori oggi. Hai sentito l'elenco degli orori? Sì. Compreso questo ignazio da Loyola. Sì, è terribile. È una cosa... Ho sentito una cosa veramente... La farà caponare la pelle. È incredibile. Tu pensi che questo, no? Sant'Ignazio di Loyola. Sì. Lui è stato chiamato dall'inquisizione. Sì. Per un libro che aveva scritto. Lui gliel'ha portato e l'inquisitore l'ha letto e quando lui si è presentato gli ha detto va bene a voce. Però siccome lui conosceva benissimo i meccanismi dell'inquisizione, sai cosa ha fatto? È andato a prendersi un notaio e dal notaio si è fatto certificare che il libro andava bene. Madonna. È terribile. E infatti in tutti i processi inquisitori c'è sempre il notaio, no? Ah. Eh, questa è la sua genialità. È quella. Una cosa tremenda. Sì, sì, sì. Veramente. Questa Maria, questa Teresa di Calcutta le diceva a Francesco che era albanese. Sì, è albanese. Sì, sì. Come c'è anche un altro suo collega albanese a proposito di persone particolarmente simpatiche. Anche Costantino, quello dell'edito famoso, era albanese. Sì, non so se fosse albanese. Sì, sì, era albanese. Sai che a quei tempi l'Albania era un territorio... Sì, sì, è importante. È al territorio romano. Era l'Epirro, no? Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Poi ci sono anche due imperatori abbastanza balordi, o lo stesso originario dell'Albania. Ah, sì? Sì. Sarà una coincidenza. No, vabbè, non stiamo adesso a dire... No, non sto facendo precarità lungi da me. Non sto facendo... No, così era una... Delle coincidenze è una cosa che mi è venuta in mente così a proposito di persone che si lasciano ricordare per simpatia, voglio dire. Che fa veramente essere fatta, gli aghi che non si fanno sterilizzare e tutto il resto. Ma neanche nella comunità di Uaco, Ueco, quella del Texas, siamo a livelli di quel tipo. Esatto. Forse è anche peggio, visto l'accumulo dei capitali inzentissimi. Ma si parla... E poi quello che ho sentito sul Bronx, su quell'edificio che lei si è risultato di far costruire, è un'altra perla che va aggiunta a tutto questo quadro agghiazzante, direi. Perché penso che quello che abbia scritto il libro si è documentato. È tutto documentato. Cioè, per esempio, solo qui in Italia si parla bene di lei, sia in Inghilterra, sia in India, sia in tanti paesi, anche negli Stati Uniti, o viene usata, per dirti che Duvalier, che fu il figlio di Duvalier, che fu uno dei più porci che ci siano stati, e anche lui... Cosa hai detto? Il figlio di Duvalier, di Haiti, no? Il dittatore di Haiti. Ah, quello di Pappadocchi? No, è il figlio di Pappadocchi. Ah, il figlio, sì, sì. È il figlio ancora più porco del padre, perché era... Ah, era peso ancora? Lui e lei andavano a braccetto. Cosa? Lui e lei andavano a braccetto. E che miseria? Senti, io, comprati sto libro, perché ci c'è uno... Beh, guarda, siamo vicini di casa, quindi adesso sarà anche... Sì, è anche comodo, voglio dire. Sei vicina alla libreria? No, non è che io sia vicinissima alla libreria, ma vivo in quella città, in questa città, quindi... Perfetto, bellissima. È comodo, no? Sì, sì, sì. Eh, volevo dire, sentivo che parlavi dei lupi, dell'Est Sorano, del Dio, eccetera, eccetera. Volevo chiederti se conoscevi quel libro, un libro che è uscito, che non è molto, La bambina che visse coi lupi. Cioè, la storia vera, autobiografica, di Mischa de Fonseca, che a sette anni attraversa piedi l'Europa alla ricerca dei genitori scomparti. Cioè, i genitori che erano scomparsi perché, durante la persecuzione nazista. Allora, questa bambina, a piedi da sola, attraversa la Germania, la Polonia, l'Ucraina, o l'Ucraina, non so, tenendosi sempre ai margini delle città per non venire conosciuta, fermata. Allora, in questo libro, della bambina che visse coi lupi, o anche sopravvivere coi lupi, racconta questa sua incredibile odissea, un'avventura che inizia nel 41, sì, nel 41, e durante il cammino, inoltrandosi nella foresta, familiarizza con un branco di lupi. Uno, in particolare, la segue e l'accompagna attraverso la radura e la lascia solo quando giungono in vista di un villaggio. Praticamente, questi lupi la proteggono finché sono nella foresta. Poi, come ti dicevo, uno in particolare, questo lupo, l'accompagna finché lei arriva nei paesi di qualche villaggio perché si procuravano da mangiare in questo modo qui. E comunque, è un libro che io stentavo a credere vero perché una bambina che attraversa a piedi mezza Europa, però poi ho capito che era sì, che era veramente una storia successa. Ed è molto interessante questo fatto di lei con i lupi come entrano veramente in sintonia come fossero una famiglia. Una cosa incredibile. A proposito di quello che stavi dicendo tu prima. Scusa se ti sento poco. Sì, la storia dei cani mi senti? La storia dei cani a mosca è più che altro simile. Ah sì, quella che avevi detto l'altro giorno. L'ho messo anche nel gioco dello stragone perché è troppo importante. Sì, ecco e comunque sì, volevo farti notare questo, che c'era anche questo libro che può essere interessante anche per te. Sì, ma infatti è tutto interessante. Un altro fiamma mia moglie mi taglia i viveri tanti libri sono interessanti. Sì, allora ti ascolto Claudio. Grazie. Scusami se ti capisco poco perché a volte devo staccare il telefono dall'orecchio e seguire la radio. Ascolta, ti seguo allora. Grazie, chiudo. oggi è stata una bellissima interessantissima trasmissione quella di oggi delle 15 veramente e mi è dispiaciuto di non avere la cassetta per registrare, per registrarla. Io le ho tutte registrate comunque. in ogni modo siccome adesso c'è questa libreria e quindi potrebbe fare da tramite qualche volta. Infatti. Volendo. È uno degli scoppi della libreria. Ecco, benissimo. È uno degli scoppi. Ti pari con Davis che è praticamente il commesso ed è uno di noi cioè uno che anche lui pratica la magia stregoneria insomma è simpaticissimo oltretutto. Certo, io lo sento e Davis l'ho sentito alla radio. esatto, esatto. Ah sì, certo che è simpatico veramente. E poi è disponibile a procurare qualunque cosa. Sì, comunque scusa insisto non è che voglio pubblicizzare libri ma veramente sono questo libro di questa bambina adesso è una donna che è adulta che vive negli Stati Uniti è veramente interessante per quello che per quel che riguarda proprio la relazione che si era stabilita tra lei e i lupi lei praticamente è sopravvissuta grazie a loro. Hai capito? Certo, le ha insegnato come vivere certamente. Sì, va bene Claudio grazie ciao 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 allora io devo chiudere qui la trasmissione ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo io sono Claudio Simeoni piazzale Parmesan 8 Marghera indirizzo dell'istituto mediterraneo studi politisti e casella postale 53 Marostica Vicenza io chiudo qui vi ringrazio ancora di avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti